Potere verso il letto! Trasportami sul letto! Portami sul letto! È questa la formula! Portami al tavolo! Chi è? Sono Marina! Pronta per la cena? C'è la torta di alghe! Arrivo! Pierce, si mangia! Pierce, cibo! Ci sono tante cose buone! E questo cos'è? Polly, recupero la pochette verde da Lord Piovra, così me ne torno a casa. Il tuo fratellone... Pierce! Ma è notte! Non può uscire dalla zona protetta! Come farà con l'esercito di squali notturni? Cosa? Squali? Per riuscire a prendere quella pochette, non ho bisogno di polli! Devo soltanto avvicinarmi, prendere la corona magica e rimpicciolire quel calamaro! Non è difficile, no? Visto? Lo squalo è d'accordo con me? Uno squalo! Oh, ciao di nuovo, Lord Piovra! Stai benissimo oggi! Ehi! Hai un esercito di squali! Wow! Paura! Corra via! Nuato via! Dov'andarmene da qui! Quindi lo scudo non serve solo per Lord Piovra! Un intero esercito di squali vi minaccia! Già, sono squali notturni! Pierce sarà un esca per squali! Dobbiamo salvarlo! È tardi! Non arriveremo mai in tempo! Io so come arrivare in fretta! Portaci ovunque sia Pierce! Pierce! Che cosa hai fatto? In che senso che cosa ho fatto? Volevo prendere la Pukite! Non sapevo che la Piovra avesse un'armata di squali! Guarda, uno squalo! Teremi nei polli! Puoi rimpicciolirli tutti come hai fatto con la Piovra! È troppo pericoloso avvicinarsi a loro! Ce ne sono troppi! Andate via, Molly!